1.788 casi su 9.473 tamponi processati, tasso di positività 18,8%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 28 marzo. Nelle 24 ore precedenti casi erano stati 2.008 su 12.742 test con tasso di positività al 15,7%. Il totale dei contagi dal coronavirus registrati in Puglia è ora di 188.737, di cui 46.880 attualmente positivi, 137.164 guariti e 4.693 deceduti. 14, di cui 5 a testa provenienti da Barise e Tarantino e 2 a testa provenienti da Brindisino e Foggiano, sono i nuovi decessi. 531 sono i nuovi guariti. Torna a salire il totale dei pazienti ricoverati che passa da 2.005 a 2.038. In crescita anche i quarantenati che salgono da 43.632 a 44.842. Il dato più alto del 28 marzo è rappresentato dai 561 nuovi casi emersi nel Barese. 74.063 è il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. Numeri alti anche nel Tarantino, zona nella quale i nuovi positivi sono 355 ed il totale 28.819. Dato simile nell'Eccese e nel Foggiano, dove sono stati registrati rispettivamente 296 e 286 nuovi positivi. Il totale della zona salentina è ora 17.509, quello della capitanata 35.124. 155 sono i nuovi casi nel Brindisino, 13.671 è il totale della zona messapica. 125 sono i nuovi contagi registrati nell'abbatti il 28 marzo. Tale dato porta il totale della provincia di Barletta-Andreatrani a 18.558. A chiudere il quadro, 7 residenti fuori regione e 3 casi dalla provenienza non nota. 1.839.926 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.